Musica Rudy, partita intensa, portata a casa, però tutta bene, belle azioni, manovrata bene a centrocampo E' stata, abbiamo giocato forse una delle più belle partite questa sera, abbiamo giocato veramente bene, era decisiva, abbiamo sbagliato la prima giornata contro Tegherini, abbiamo perso, la stavamo vincendo un bruttissimo secondo tempo, non potevamo perdere per riaprire Primaverile Primaverile e due passi falsi, infatti, sarebbero stati troppi, abbiamo già fatto una sconfitta, un pareggio, queste due vittorie ci rilanciano, adesso vediamo di dire decisione Non bisogna più sbagliare fino alla fine per riuscire a… Ci proviamo, vogliamo andarci, abbiamo ancora la finale di Coppa delle Fiere però vogliamo andare avanti Beh, perché è stata giocata così… Stasera è stata veramente bella, nell'ultima intervista che avevamo fatto era stata una brutta partita, un brutto pareggio invece stasera sono a prendere Bella squadra, poi il mister che urla sempre dalla panchina, sempre carico Non ho più voce, alla Conte è andata bene Scegliamo alla finale Coppa delle Fiere Grazie mille! Ciao!